Torna al Travalli Tour Motorrad 1, domenica 3 luglio da Cavallini Moto a Voghera, si parte per visitare le vie della città e le bellissime coline dell'oltrepropa vese. Per maggiori informazioni visita cavallinimoto.it Carlo Barbieri, buongiorno, partiamo subito dal progetto sicurezza, i vogheresi lo avranno notato, in città sono comparse delle nuove telecamere che serviranno, tra le altre cose ovviamente, a monitorare l'eventuale presenza di auto rubate o senza la copertura assicurativa. Quanto c'è della sua giunta in questo progetto? È un progetto della nostra giunta, credo che non sia ancora terminato in modo definitivo il percorso di installazione di queste telecamere, negli ingressi principali della città che appunto consentiranno, come lei giustamente diceva precedentemente, di sapere in ogni momento quali sono i mezzi targati all'interno del nostro perimetro cittadino. Questo chiaramente con un grandissimo aumento della sicurezza. È una prima parte della progettualità che prevede ancora l'installazione di 45 telecamere almeno ad alta definizione disposte all'interno della città, nei punti più critici. E successivamente l'installazione di una postazione di controllo di tutte queste telecamere privata che possa andare in accompagnamento alle forze dell'ordine e quindi ad essere un ulteriore aiuto per le forze dell'ordine e per i cittadini a mantenere la sicurezza. Il tutto collaborato da nuovi impianti di illuminazione nelle zone particolarmente critiche con luci che possono anche essere attivate a distanza e quindi illuminare una certa zona in modo molto incisivo, quasi a giorno, proprio per poter poi distogliere in caso di emergenza o in caso di avviso di criticità. Ecco, a proposito di sicurezza e anche di automobili, la Polizia Urbana con delle apparecchiature ovviamente adeguate effettuerà maggiori controlli per quanto riguarda l'alta velocità a partire dal prossimo mese di luglio. Se ne è parlato moltissimo in queste ultime settimane, soprattutto in conseguenza ai vari presidi da parte di Partito Democratico e di Italia del Rispetto. Alla luce di questi fatti si pente di aver detto che la raccolta firme è artificiale oppure no? La raccolta firme, in questo momento il PD la sta utilizzando solo e decisivamente per avere un po' di visibilità e ribadisco quanto ha detto. La raccolta firme può avere certi significati se non accentua e non esaspera un problema, ma lo evidenzia, ma il problema deve essere risolto. La politica ha un compito, risolvere i problemi non evidenziati. Per quanto riguarda il controllo della Polizia devo deluderla perché ovviamente non dipendono dalla raccolta firme, la progettualità di quello che viene fatto dalla Polizia Locale è una progettualità annuale. Se lei va a vedere negli anni passati gli stessi progetti sono stati presentati e sono stati realizzati dalla Polizia Locale, quindi anche questo è un progetto che era stato impostato da noi, come è successo nei 5 anni precedenti. Quindi non è che stiamo dicendo cose strane, basta andare a vedere negli anni del 2010 e del 2015 cosa è successo, anzi, devo dire, tutti questi progetti con la Polizia Locale anche fatti in accordi sindacali, quindi fatti anche su tavoli di RSU almeno, insomma, quindi di sindacali interni. Si cercano i contributi per poter dare dei premi alla Polizia Locale che già svolge un compito importante e difficile, per poter fare più ore di servizio anche in ore notturne perché chiaramente d'estate i problemi di notte con la chiusura delle scuole, quindi con i ragazzi giovani che stanno in giro maggiormente, sono maggiori rispetto a quelli che si possono riscontrare in inverno. E questo è un progetto normalissimo che noi abbiamo sempre fatto, qualcuno sbandiera la vittoria, non è così, non è così, è un progetto impostato da noi, chiaramente con anche l'anno scorso fatto con strumentazioni tecnologiche, che ogni tanto arrivano perché affittate, perché acquistate, perché la Polizia Locale nostra, il nostro comandante con tutto il suo staff è attento a queste cose e si sono predisposte quelle strategie affinché ci sia, no, la Polizia Locale possa essere sostenuta e supportata nella sua funzione anche da strumenti tecnologici che possono aiutare a risolvere, a risolvere, a dissuadere i giovani e anche i meno giovani a commettere dei reati dal punto di vista del codice della strada. Parliamo dell'impianto di Pirolisi, da Bruxelles in poi, che cosa è successo e a che punto siamo? Credo che sicuramente la visita di Bruxelles e l'andata dell'Oltrepo a Bruxelles è stato un momento molto positivo della politica, la politica che non lascia nulla al caso e che vuole prendere in considerazione ogni possibilità per scongiurare questo scellerato impianto che vuole essere realizzato vicino nel nostro territorio dell'Oltrepo pavese, Bruxelles ha già dato delle risposte positive, ha aperto questa posizione critica dell'Oltrepo, l'ha evidenziata, ne ha conoscenza. Non è vincolante però? No, non è vincolante però l'Unione Europea ha una funzione molto importante di condivisione, ha una funzione importante di indirizzi e chiaramente credo che questo possa aiutare la Regione Lombardia ad andare verso il no. Dopodiché credo che le criticità emersi in conferenza dei servizi della scorsa settimana siano importanti, siano tante, penso che la strada intrapresa sia giusta, credo che difficilmente si potesse fare di più, dobbiamo sempre essere attenti, continuare a incentivare da un lato il Comitato con le sue azioni, ma dall'altro la politica che ha una grande responsabilità in questo e deve essere sempre protagonista del no a questo impianto. Io sono fiducioso, credo che alcune criticità possano veramente mettere in difficoltà l'azienda che ha intenzione di predisporre questo impianto e mi auguro veramente per il nostro territorio che si possa vincere questa battaglia. Ieri c'è stata da parte di Ghezzi una dichiarazione per quanto concerne SMT, gliela leggo. L'identificazione dei due membri che risiedono nel Consiglio di Amministrazione e di Gestione Ambiente sono state una scelta politica di collegamenti con la Giunta Barbieri di cui Todeschini ha l'espressione. Ghezzi ci ha visto lungo oppure possiamo dire con fermezza che lei non ha avuto alcuna influenza? Io non ho avuto nessuna influenza perché chiaramente il CDA di SMT è fatto anche da un comune come Tortona, con il quale io poco ho a che fare. Voglio dire, al di là della mia influenza che è stata assolutamente nuda in questa operazione, io credo che il tema non sia se all'interno di SMT o delle società partecipate da SMT ci siano esponenti politici o meno. Io mi preoccuperei, ci sono esponenti capaci o meno. Io se fossi Ghezzi mi preoccuperei di questo. Il fatto di bollare una persona con un simbolo politico e solo ed esclusivamente per questo traslare il ragionamento e dire quindi visto che è un marchio politico quella cosa lì non funziona. Anche perché l'andamento di SM con marchio politico Forza Italia e altri alleati credo che abbia dato ottimi risultati e questi ottimi risultati si sono visti in modo assolutamente evidente. Quindi credo che Ghezzi ancora una volta scivola su una buccia di banana. Evidenzia delle criticità che non sono criticità invece di preoccuparsi del fatto che una persona possa essere capace o meno. Se dovesse fare un'analisi di questo tipo chiaramente sarebbe obbligato a fare marci indietro e dire che le nomine vanno bene.